Ma io ne parlo tranquillamente, i motivi di questo passo indietro sono uno, incontravamo una squadra forte e ditemi voi chi non avrebbe messo la firma su fare tre punti tra Ferrapi e Bolzano e qua già sarebbe chiuso il discorso al di là del fatto che il primo a cui rompe i coglioni perdere 4-1 sono io quindi io sono il più infuriato di tutti però bisogna anche fare un distinguo sulle cose siamo entrati, abbiamo letto male alcune situazioni per tutta una serie di motivi che non stiamo qua siamo andati 2-0, dopo abbiamo preso la partita in mano noi il problema è non prendere il terzo gol abbiamo fatto 5 minuti iniziali da scemi e 30 secondi il secondo tempo quindi questo è già sufficiente contro una squadra forte per perdere e anche perdere pesantemente chiaro che questo non va bene però da qui a, ripeto, io devo anche essere obiettivo e guardare il bicchiere mezzo pieno se mi avessero detto che tra Ferrapi in casa e su Tirol fuori facevo tre punti io ci avrei messo non una firma ma almeno due quindi il discorso lo chiudiamo lì con tutto quello che invece dopo la cosa importante per un allenatore e per i giocatori è quella di trasformare una situazione del genere in un propellente questo è, quindi da questo punto di vista uno schiaffone ci può anche stare oltretutto una sfida anche con una diretta concorrente che non è il sutilo chiaramente quindi con maggior ragione non è vero, anche questa è una stupidata ma fino adesso, ma si hanno fatto stronzate su stronzate ma ragazzi, adesso che c'è una squadra buona chiaramente che è fatta a gennaio quindi è arrivata tanta gente che che va rimessa in pista e ci mancherebbe altro però qui, secondo me, il direttore ha fatto un grandissimo lavoro siamo passati ad avere una squadra dove 10 soggetti avevano 300 presenze in categoria dove ne hanno 2.500 basta rimettere lì in pista e fare un po' d'amalgamo e dopo le cose andranno sicuramente molto meglio il non si può sbagliare, non è vero non è assolutamente vero, mancano 15 partite so anch'io che se vinco a Imola ho fatto una grandissima cosa e quindi sicuramente da questo punto di vista vedo il risultato di Bolzano come un propellente però non è che non si può più sbagliare non si deve sbagliare, che è una cosa diversa questo sono d'accordo, non si deve, non è che non si può Diciamo, non visto che mi chiedo che magari è una sconfitta a Imola che potrebbe essere, diciamo, è pericolosa anche questo, questo, su questo sono assolutamente d'accordo, vero no, no, questo sono d'accordo però sono convinto che come abbiamo fatto per tratti anche a Bolzano anche se è difficile crederlo adesso ci siamo ho detto la cosa importante è rimettere in pista chi è arrivato e magari fino adesso ha giocato poco e quindi anche la condizione, non posso pretendere che la condizione di Medicino, Letizia o Remedi sia la stessa condizione di Montanari e di quelli che si sono sempre allenati insomma, questo è evidente anzi, lasciatemi fare un pensiero per per Francesco Agnello che dopo tanti mesi di inattività dovuti ad altri motivi si è anche rotto il crociato quindi gli siamo assolutamente vicini ma anche lì è abbastanza normale quando uno non gioca da tanto tempo ha un picco iniziale in alto e dopo ha un picco in basso è abbastanza normale lì inizialmente ti tiene in piedi l'adrenalina la nuova situazione dopo dal punto di vista fisico ecco dopo si può discutere ecco per esempio come gestire le tre partite ravvicinate sostituisci tutti la prima partita cambi la seconda c'è tutta una serie di valutazioni che poi ho imparato che lasciano il tempo che trovano io ho pensato di dare continuità alla squadra che aveva battuto la Feralpi domani farò qualche cambio domani farò qualche cambio perché c'è qualcuno che tira la carretta da un po' e non posso pretendere che faccia tre partite da 90 minuti però adesso abbiamo anche una possibilità di scelta nella rosa superiore a prima quindi non ci sono grossi problemi una domenica brutta diciamo a come ci sono state anche una serie di conferme la prestazione di elettrica secondo me è quella di medicina che c'è un lavoro in peso l'ingresso di messina dalla panchina anche secondo me dalla panchina sono intraduti bene è tratto bene anche a Lotti domenica con grande verve, ventola domenica domenica da questo punto di vista sono d'accordo di quelli che sono subentrati che è già una bellissima cosa è importante quelli che sono subentrati hanno dato dimostrazione di essere pronti quindi questo mi conforta anche per queste due partite ravvicinate Melli ha fatto il primo allenamento stamattina però che mi risulti adesso stanno perfezionando il trasferimento quindi stiamo aspettando dopo sai che c'è trasferimento dopo deve arrivare il transfer e tutto quindi non lo so domani probabilmente giocherà sala se è questa la domanda no 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 ma bene se è già arrivato sì no 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 stamattina si sono allevenati sia lui che Santo Vito tutti o due però il tesseramento mi hanno detto il suo cioè è in itinere ecco però sai che ho fatto una una valutazione attenta secondo me non è stato tanto un approccio mentale quanto proprio un errore nelle scelte che abbiamo fatto un errore che oh non è che sia non è che sia meglio è una cazzata anche quella grosso che cosa ti aspetti domani ma oltre che dai tuoi anche dall'avversario perché la partita è portata per il ringio ma domani secondo me sarà una partita molto tattica perché comincia chiaramente sai quando comincia il giorno di ritorno comincia ad avere la sensazione che le partite si il numero dei partiti si assottigli quindi diventano tutte importanti a maggior ragione gli scontri diretti ecco come si diceva prima secondo me il risvolto principale di una partita così è psicologico cioè il fatto di fare una buona prestazione di fare risultato chiaramente ti darebbe una spinta notevole non solo in classifica ma anche a livello a livello morale è il contrario come si diceva prima per chi soprattutto in queste partite in quali tutti diretti che farei inizia che il raccordamento è andata risolta bravissimo ci stavo ci stavo ci stavo ci stavo ci stavo arrivando nelle nostre condizioni anche avere il vantaggio arrivando a parità parità di punte è importante quindi questo è un aspetto molto molto pesante secondo me sicuramente a punto di vista tattico come hai detto già sanno non è partito della regionale è un momento di lavorare poi non penso che sia quello il problema ripeto che adesso avendo più soluzioni pian piano avendo tempo svilupperemo anche qualcos'altro quello è doveroso però a questo momento qui non ne ho il mio in questo momento secondo me avendo poco tempo a disposizione bisogna concentrarsi nel mettere i giocatori giusti e soprattutto fargli migliorare di condizione più che stare a pensare a tre difensori o quattro difensori dopo secondo me i giocatori che sono arrivati essendo anche giocatori molto d'utili si potrà sicuramente pensare a provare qualcosa qualcosa d'altro qualcosa stiamo già facendo così a sprazzi però molto molto contenuto perché non ho non voglio non è tempo buttato via non è mai tempo buttato via però secondo me la capacità dell'allenatore è quello di sapere anche dimensionare il lavoro nei vari momenti dell'anno no ti ho detto è chiaro che non posso pretendere cioè in questo no no quelli che stanno quelli che sono sempre stato qui stanno bene anzi direi molto bene anche i risultati fisici di vari montanari Palma Domenica sono stati buonissimi non buoni onestamente sono stati discreti anche quelli degli altri però chiaro che non posso domandare a Mendicino di fare le accelerazioni in questo momento che fa Palma è normale la condizione non è la stessa ecco questo secondo me è un punto focale adesso bisogna questa gente ha bisogno di giocare e di lavorare e bisogna fare il più in fretta possibile questo secondo me è un punto fondamentale in modo da arrivare veramente al momento clou della stagione tutti in ottime condizioni questo secondo me è un obiettivo importante oggi tra le altre cose ha fatto qualcosina anche candido quindi sì diciamo che è venuto a trovarci più che altro a far una sudata perché ancora è sotto però ogni tanto si è fatto piacere anche perché l'ho visto sorridente questa cosa mi ha sollevato un po' insomma allora infortunati infortunati abbiamo agnello e basta e candido vabbè candido chiaro che è lungo del gente però loro due no altri infortunati non ci sono neanche neanche squalificati loro invece mi sembra che abbiano squalificato della Giovanna se non sbaglio bene potremmo vedere l'esercito è molto probabile sì molto probabile perché gli esterni e i centrocampisti sono quelli chiaramente più usurati dalle prestazioni continue quindi è il caso di dare riposo anche a qualcun altro remedi assolutamente sì lo vedremo in campo ma i giocatori abbastanza diversi remedi è un giocatore comunque sì 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 chiaro sono due giocatori comunque che sono portati a costruire all'offensiva però anche dal punto di vista strutturale sono completamente diversi rimedi più un giocatore fisico da presenza insomma magari Montanari è più è più dinamico è migliore tecnicamente no no si possono integrare sicuramente sì è più è più